Grazie a tutti e a tutti gli altri dignitariosi qui. Innanzitutto voglio organizzare l'esilio Sita con tutti gli altri dignitari presenti qui oggi. È semplice per me affermarlo. Io ho una profonda e sentitissima, con nessuno, un profondo legame con questa città. Ho sempre apprezzato la gentosità e la gentilezza che il popolo di Roma mi ha sempre dimostrato. È realmente il mio lavoro che si crea in legame attraverso un'opera di fiction. Ed è un'ironia dell'epoca in queridiana che la fiction è riuscita a riaprire così tanti occhi e tanti cuori in tutto il mondo rispetto a quella che la storia e la cultura è la verità di questa scientifica città. I'm always a visitor here. Maxis was a visitor here. An outsider. An immigrant. Io sono sempre un ospite qui. Maxis era un ospite. Era un emigrato. Era un outsider. I would ask the mayor to use this position to work very hard on proving the lives of all the people in Roma. E voglio, in un certo senso, chiedere a Alessi Bursin di utilizzare la sua carriera, la sua posizione, proprio per dimostrare tutto questo al popolo di Roma. ma anche di consentire tutto questo anche al popolo di Roma. Perché voi non saprete da dove potrà venire il prossimo popolo di Roma. sono sempre una seduzione. That's it.